Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati alla serie dedicata al tutorial di Stellaris. Nello scorso episodio avevamo iniziato ad impostare un pochino le economie sui nostri nuovi pianeti, avevamo colonizzato appena un pianeta oceanico con il 60% di abitabilità, quindi non proprio uno dei migliori, ma insomma non male, anche perché scopriamo anche, diciamo, ai fini del tutorial, che vuol dire conquistare un pianeta di questo tipo. E niente, quindi direi di continuare a mandare su la nostra economia. Ok, qua stiamo costruendo un templio molto positivo, qua stiamo costruendo l'amministrazione planetaria, e qua stiamo costruendo l'amministrazione planetaria, perfetto. Ok, vediamo come l'abitabilità vede da più alimenti usati, come li chiamo io, l'upkip delle pop è del 40%, le risorse del meno del 20%, la velocità di crescita delle pop è meno del 20%. Quindi, diciamo che tutto sommato, ci sono dei piccoli malus, che pian piano possiamo andare a compensare con la ricerca di nuove tecnologie, ma malus che per adesso, insomma, ci possiamo tranquillamente tenere. Io ho fatto un po' un azzardo a prendere questo sistema, questo pianeta, scusatemi, ma volevo mostrarvi, insomma, che succedeva nell'andare a conquistare e colonizzare un pianeta, con una bassa abitabilità rispetto al normale. Mentre qua vediamo come i nostri consumer goods scendono a dismisura, quindi li andiamo subito a comprare, altri 500, vendiamo anticipatamente i nostri minerali, in questo modo, vedete ragazzi, io intanto vado avanti un pochino col tempo. Qua abbiamo un prezzo di acquisto e un prezzo di vendita, più noi vendiamo la merce e, vedete, più questo prezzo si abbassa. Quindi noi, quando dobbiamo vendere, ci conviene vendere in stock tutto insieme, non vendere 100%, 100% e così via, perché se no, ogni volta si andrà ad abbassare. Quindi ci conviene fare tutto quanto insieme. Stesso discorso, quando compriamo, ci conviene comprare una grossa quantità per far sì di avere il massimo di resa nel comprare una merce, ok? Quindi cercheremo, insomma, di mantenere sempre delle cifre abbastanza alte. Diciamo, vedete che ci sono tre step e noi cercheremo quasi sempre di comprare e vendere al terzo step. Però, insomma, questo è un modo che ci gestiamo durante il corso della partita. Ok, è uscita la nostra amministrazione, quindi metto un secondo in pausa. Abbiamo tolto il malus, vedete, di avere una colonia. Fortunatamente adesso siamo un'amministrazione planetaria e andiamo subito a costruirci il tempio. Perché? Innanzitutto perché ci dà unità e poi perché ci dà un 5% in più nelle etiche spiritualiste. E diciamo che a noi le etiche spiritualiste non ci dispiacciono, vedete? Attualmente abbiamo un 44% della nostra popolazione che sta abbracciando questa etica e le altre sono un po' semistate. Quindi andare a spingere un po' sullo spiritualista, visto che, diciamo, ci avevamo intenzione di impostarci una strategia sopra, ci è andata un po' male a causa di alcune scelte fatte magari un po' di impulso ed altre purtroppo poppate dal gioco, quindi andiamo a migliorare un pochino questi numeri. Ok, abbiamo sbloccato una struttura e ci andiamo a prendere. In questo momento abbiamo, lì tra le espone più 10 anni, non male, un pochino di naval capacity in più, in base alle nostre starbase, più starbase capacity e più naval capacity. Ok, noi abbiamo 20, quindi diciamo arrivare a 50 non è una brutta idea. E quindi andiamo a prenderci questa upgrade. Ok, ora dovremo anche capire, ragazzi, come, innanzitutto qua alziamo, come impostare i nostri pianeti. Cioè, nel senso, attualmente noi abbiamo un pianeta che sta sostenendo tutta l'economia dei restanti 4 e dei pianeti che ancora non si sono specializzati. Intanto, scusate, metto a fare il tempio. Quindi dovremo iniziare a capire come ci conviene specializzare questi pianeti. Qui non abbiamo grandi output di risorse, quindi questo pianeta potrebbe essere tranquillamente o una farm di ricerca, quindi sostanzialmente un pianeta principalmente scientifico. Scaviamo gentilmente l'asteroide, va, mi piace di più come idea. Adizioniamo più 4, vabbè, chi se ne frega. Quest'altro, invece, potrebbe essere, ok, una buona income di energia e quindi potremmo pensare di metterci qualche struttura che busta i crediti energetici e, perché no, magari anche qualche struttura che ci va a dare delle industrie civili per andare a bustare un pochino la capacità industriale del pianeta. Quest'altro, tutto sommato, non spicca da nessuna parte. Vedete, ha 5 distretti di crediti energetici e 5 distretti dell'agricoltura. Quindi, tutto sommato, potrebbe essere un valido mix su cui noi poi potremmo andare a pensare di metterci, non so, ad esempio, delle strutture che ci danno delle risorse particolari. Qua, invece, abbiamo un buon settore agrario, ok, un pianeta agrario. Non è male, abbiamo ben 8 settori, quindi potremmo pensare di rendere questo pianeta agrario. E di qua, diciamo che, visto che abbiamo un sistema agrario qui, un po' di agricoltura che non manca quasi su nessun pianeta, qua magari ci potremo specializzare nei minerali visto che siamo un pochino carenti, quindi pian piano andremo a convertire queste distretti in distretti minerali. Questa, ragazzi, è l'idea con cui possiamo andare a procedere. Ora dobbiamo, ovviamente, metterla in atto, quindi io mi servo del puzzantino più veloce perché in questo modo accelero un pochino i termini di gioco e quindi non... vado un pochino dritto. Tradizioni, tradizioni, ok. Abbiamo scelto di impostare la nostra strategia, quindi, nei termini di cui abbiamo discusso poco fa. Sicuramente non dobbiamo fare a botte con nessuno, anche perché per adesso di vicini, a parte loro, non abbiamo. Quindi supremazia la scartiamo. Diplomazia... Non è male, ragazzi, ma attualmente la diplomazia, stesso discorso della supremazia, no? Sono molto simili. Non abbiamo molte persone vicine e quelli che abbiamo ci odiano a morte. Quindi, direi della sulimmozia, per adesso, lasciamola stare. Dominazione. Non abbiamo grossi problemi di criminalità, non abbiamo bisogno di alzare il livello dei ruler, insomma, per adesso stiamo abbastanza bene. Prosperità e armonia. Ecco, qua possiamo pagare e parlarne un secondo. Armonia, abbiamo un po' di bonus sull'adozione, nel senso del 10% in meno di consumazione di cibo e ci servirà, perché comunque qua sicuramente boosteremo costantemente questi pianeti, quindi almeno 5.000 ogni circa 10 anni li andremo a spendere. La stabilità ci piace sempre. Questo è abbastanza inutile. La guerra difensiva non è male, magari c'è qualche stronzetto che ci attacca, insomma, perché no? L'iter l'espawn incrementato del 20%, beh, diciamo che non è male, insomma, tutto sommato ci potrebbe piacere. Per prosperità andiamo, ecco, a ridurre il costo dei distretti e la loro velocità del 10% e del 20%, insomma, boh, scusate, la loro velocità, la loro velocità di costruzione la aumentiamo. Non so, per ora è relativo. Questo anche è relativo, non abbiamo bisogno di spazio. Ecco, l'upkeep dei distretti e delle costruzioni magari potrebbe essere interessante, visto che abbiamo, ecco qua, 47 delle costruzioni e 35 dei distretti. Però, ecco, non so, non so. Questo potrebbe essere un bel bonus, il 5% delle risorse speciali in più è veramente una figata. E qua ci danno un clerke in più, insomma, un po' di lavoro. Io probabilmente mi vado a prendere questa armonia qua, perché potrebbe essere anche una scelta sbagliata, però per il momento voglio boostarmi un pochino l'etica, voglio spingere un po' su le scelte che ho fatto all'inizio del gioco, anche per farvi capire un po' di più che vuol dire concentrarsi su un proprio modo di giocare, ok? Cioè, non andare a fare magari un powerplay, ma andare a fare più una giocata di tipo console alla nostra nazione. Cioè, noi siamo degli spiritualisti e dobbiamo essere tutti uniti sotto un unico credo, ok? E l'obiettivo è di fare un unico credo e di conseguenza non avere tante fazioni, ma magari averne meno. Oppure avere tante fazioni, ma che sono quasi tutte di edica spiritualista. Scusa, non so se mi sono spiegato. Questa è un pochino l'idea, ok? Se volessimo fare un powerplay, diciamo che magari si va a giocare una cosa un pochino differente. Quindi, bussiamo un pochino. Cosa andiamo a fare per velocizzare il tutto? Qua abbiamo tre cittadini, ok? Cioè, ci mancano due cittadini per arrivare ad averne 15 e sbloccare uno slot. Qua siamo a 47, quindi potremmo anche pensare di trasferire della pop su questo pianeta in modo tale da arrivare a 15 il più velocemente possibile. Però, per ora, aspettiamo. Stesso discorso anche qui, ragazzi. Vedete, 12 e 12. 11, insomma, siamo là, ragazzi. Stiamo là. Ah, qua, ecco, mi sono scordato di fare il distretto. Qua abbiamo del lavoro, abbiamo del lavoro. Qua ne abbiamo... Ancora no. Siamo un po' stretti con la administrative capacity. Quindi, forse, dovremmo pensare anche da sistemare un po' questo valore. Allora, tu intanto stai continuando a costruire. Tu ti sei spostato qua. Vediamo un po' se abbiamo delle missioni. Ah, ok. Delle missioni ce le abbiamo. Dove? Qua. C'avevamo una nave... Ok. Noi c'avevamo una nave scientifica che non faceva nulla. Recludiamo uno scienziato. Mazzate che schifezza. No, ragazzi, aspetta un po'. Questi scienziati ti fanno schifo. Ops. Studia, studia, che ti fa bene. Ok, tu hai fatto. Vedete, qua c'è un simbolo che è chiuso perché è spento, perché abbiamo bisogno dell'Exotic Gas Extraction Technology per poter usufruire di questa ricerca. Ah, buono. Ok, qua c'è da discutere. Sblocchiamo la possibilità di costruire una struttura che ci trasforma minerali in questo gas, dovrebbe essere. Non so, è buono, ma al momento, insomma, non ci faremo nulla. Quindi, lo eviterei. Questo è buono. Cinque ricerche anziché quattro. Non male. Alternative nel 20% in più sui fisici. Noi non abbiamo nessun centro di ricerca, se non quello sulla capitale, che è abbastanza sbagliata anche come tattica. Ma va bene. Reattore a fusione, insomma, lascia il tempo che trova per il momento in cui stiamo. Quindi, abbiamo giocato 38 anni, quindi per adesso possiamo anche concentrarci ancora a bustare l'economia. Vediamo un po' come stiamo messi, dicevamo qua. Ok, l'anomalia è a posto. Punteggi siamo messi, ma lucio. Siamo settimi. Allora invece... Ah, ok, siamo vicino a un impero caduto. A un fallen empire. Vabbè, speriamo che non vi svegliate voi. Rimanete qua, zitti zitti. E non fate casino. Ok, qua con le risorse ancora stiamo bene. Infatti meno 40. Però più 99 attualmente non è un pessimo valore. Ci possiamo stare. Torniamo un attimino qua. Pop. Ok, la pop sta arrivando. Quindi io direi subito di metterne due lavoratori. Togliamoli dai miners. Vai. Ok, ovviamente hanno bisogno di delle case. Probabilmente le avrei dovuto far prima. E me la vado subito a costruire una casa. Qua 12. Quindi una pop la possiamo trasferire. E qua ne abbiamo quante? Qua ci metti ancora un pochino. E anche qua. Va bene. Aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo che questo arrivi proprio al limite. Così almeno magari questo prezzo ci si abbassa ancora di più. Ok, ci è morto? No. Cosa è successo? Ah, ci è morto uno scienziato. Mannaggia. Vabbè, era pure ora insomma che uno scienziato ci abbandonasse. Vediamo se c'è... Niente. Mettiamo lì del live spawn. Vai, va. Divertiti e continuai a esplorare automaticamente la galassia. Qui abbiamo trovato qualcosa. Ricerchiamo. Ricerchiamo subito. Ci abbiamo anche questo da ricercare qua. Che non mi dispiacerebbe capire che cosa sia. Però vorrei anche incontrare qualcuno. Insomma, la diplomazia per adesso, a parte con loro... Vedi, già stiamo bustando le relazioni. Adesso siamo cordiali. Forse potremmo anche pensare di fare un patto. No, ovvero, quanto ci manca un po'? Eh sì, un pochino. Eh vabbè. Ok, siamo anche molto distanti. Ok. Vai. Che andiamo a costruire qua, ragazzi? Ok. Abbiamo sbloccato il concilio galattico. Ok, quindi... Eh... Ne parliamo nel prossimo episodio. Quindi adesso io entrerò e non farò nulla. Perché voglio parlarne con calma insieme a voi e spiegarvi bene come funziona il consiglio galattico. Quindi per adesso entro e non prendo nessun tipo di decisione. Ok, elezioni. Parliamo delle nostre elezioni che attualmente sono le più importanti. Allora, abbiamo praticamente due persone che probabilmente a breve moriranno. 81 e 82. La difesa non ci interessa. Lui ci dà... Lifespawn... Ah, ok. Però al di livello 1, ragazzi. Livello 5 invece sì. Livello 5 ci potrebbe interessare che poi è la nostra leader, tutto sommato. Anche se aveva fatto un po' la stronzetta. Ma comunque ce la possiamo tenere. E credit energetici in più con l'upkeep delle starbase. No, io continuerei a tenere lei per il semplice fatto che ha unità mensile più 10%. Research speed più 10%. Quindi per ora mi tengo lei. Ovviamente ho speso 200 di influenza, ragazzi, per far questo giochetto, eh. Ok, cioè non è che ho speso poco. Però adesso l'influenza non mi serve. Eh, lo so, lo so. Adesso sistemiamo tutto. Allora, 13. 47, ok. Quindi... Ricerca. Ci metterei un secolo, ma non fa niente. Dobbiamo andare su Gadria. Dove sei? Gadria. Ok, sempre dai miner. Uno e due. Vai. Ovviamente qua manca un lavoro. Lo andiamo a sistemare subito. E qua ci mettiamo, ci mettiamo... Le industrie civili. E qua, invece, ci andremo a mettere la nostra... Risorse... Più 6. Vabbè. La cosa che non mi piace è che non abbiamo dei grandi bonus sul pianeta. Innanzitutto qua dobbiamo boostare un pochino il cibo, perché voi dovete mangiare. Non abbiamo dei forti bonus, quindi, diciamo, per adesso non è molto importante. I torpedo se li abbiamo sbloccati. Ricerca ingegneristica, ho 20% di minerali in più. Ma io forse andrei con... Quanto prendiamo dai nostri jobs? 31. E qua? Dai nostri jobs? Eh, non me lo dice, è vero. Ma andiamo con loro, va? Anche qua ci manca un lavoro, quindi io andrei ad aggiungere... Voi? Poi convertiamo, semmai. Io inizierei a pensare qua ad... Forse questa struttura qui. Voglio vedere una cosa. Voglio vedere una cosa. Potremmo anche rendere loro capitale scientifica a questo punto, visto che abbiamo il 10% in più dalla nostra... Dalla nostra capitale. E quindi andare a buttare queste strutture e fare tutte le ricerche sul pianeta principale. Potrebbe essere un'idea, ragazzi. Potrebbe essere una buona idea. Visto che non abbiamo dei bon... Cioè, in realtà, vedete, non ci sono grandi buff qui scritti. Non c'è niente. Ah, abbiamo Marcellone, che è il nostro... Il nostro leader, ok? Non Aggression Pact. Eh, vabbè. Ah, ovviamente, ragazzi, sbloccando il Concilio Galattico, vedete, abbiamo sbloccato un sacco di gente. Quindi, per adesso, nessuno è vicino a noi. E questo è positivo. Allora, sì, ci prendiamo l'etica per il discorso che abbiamo fatto prima. E, e, e... Qua abbiamo una nave scientifica continua. Ovviamente qua abbiamo bisogno di altro. 13, 45, ok. Qua sta arrivando il nuovo, la nuova pop. Ok, diciamo che tra un pochino avremo anche questa struttura pronta. Piano piano, andiamo a crescere. Velocemente. Health care attiviamo di nuovo. Questi non ci interessano, perché ci danno cibo, unità, scoperte delle anomalie, insomma, niente di che. Ehm, scusate. Mi apro un secondo per vedere che succede. Ehm, no, per ora, per ora è a posto. Senato is recess. Ehm, ok. Dobbiamo forse prendere la decisione qua. Io ve lo vorrei spiegare dopo, ragazzi. Ve lo vorrei spiegare dopo, perché ne vorrei parlare un pochino meglio. Allora, guardate, facciamo così. Facciamo così, ragazzi. Io direi di far questo. Chiudiamo qua l'episodio. E, anche perché mi è uscita una ricerca di cui vorrei parlarvi. Chiudiamo qua l'episodio. E, mh, nel prossimo andiamo ad affrontare questa schermata, che è una schermata molto importante del Concilio Galattico. Affrontiamo anche la scelta di questa tech in base a quello che succede qua dentro. E, eh, cerchiamo di capire anche come conviene muoverci adesso che abbiamo scoperto tutte queste nuove popolazioni. Ovviamente, vedete, loro sono molto vicine tra loro. Quindi, mh, probabilmente, ci, scusate, ci saranno delle guerre o delle alleanze. Noi, attualmente, siamo belli isolati. Quindi, o c'è qualcuno che non abbiamo ancora scoperto qua, ma, insomma, è molto difficile. Qui potrebbe esserci qualcuno, ma, insomma, ragazzi, è veramente difficile. Qua potrebbe esserci qualcosa che noi ancora non sappiamo, perché, effettivamente, è l'unico buco che ci manca. Abbiamo qua sotto dei buchi, che non abbiamo idea di cosa sia, ma non ci interessa, perché sta praticamente dall'esatto opposto nella nostra galassia. Quindi potrebbe arrivare da noi solo con un portale. Quindi, tutto sommato, siamo ancora in un'ottica espansionistica, come si deve, perché non abbiamo grandi minacce. Ovviamente abbiamo grandi difficoltà di cara a guerra a qualcuno, perché guardate quanta strada dobbiamo fare. Cioè, è molta. E comunque, loro mi sono un altro impero caduto? No. Ok, attualmente ci sono tutti molto sopra, ma questo è logico. Va bene, ragazzi. Quindi, per questo episodio è tutto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e commentate se avete dubbi, perplessità o siete semplicemente curiosi. E vi ricordo di spuntare la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che pubblicherò sul mio canale. Ciao a tutti e al prossimo video!